Ciao a tutti ragazzi, allora video non in programma nel senso che non avevo in mente di fare questo video ma visto che non si parla d'altro ho deciso di farlo, tra l'altro alle 3 usciranno i pronostici sulla prossima giornata di serie A e come detto questo video non era assolutamente... cioè non lo dovevo fare però visto che da ieri ci stanno fracassando gli zebedei sulla moviola ho deciso di fare io la moviola e non perché credo che ci siano dei opinionisti che non sappiano fare il loro lavoro semplicemente credo che qualcuno abbia omesso alcuni episodi cardini della partita qua fanno passare un po' le cose come vogliono loro e cominciamo dunque con un episodio per volta ovviamente andiamo ad analizzare e diciamo qual è la cosa insomma, quali sono le cose da regolamento allora cominciamo a dire che il primo episodio è il rigore richiesto dalla Juve per fallo di mano di Zapata allora questo è il classico episodio da calcio di rigore ora chi dice che non è rigore semplicemente non conosce il regolamento per nulla perché Zapata parte col braccio attaccato al corpo e quando parte il pallone di Ronaldo Zapata allarga il braccio il braccio come potete vedere dall'immagine che avete qui vicino è appiamente staccato dal corpo e non mi venite a parlare di volontarietà perché la volontarietà non c'entra nulla perché dovete trovarmi un fesso che ha voglia, che vuole prendere il pallone di mano cioè io ho tolto il portiere, non credo che esistano giocatori che vogliono prendere il pallone di mano quindi questo è assolutamente rigore ed è stato non dato la cosa secondo me però, e se ne è parlato e devo dire la verità la maggior parte dei detti lavori ha detto che era rigore la cosa che mi sorprende è che però non venga dato peso a questo episodio venga dato peso solo ad altri episodi secondo episodio, il fallo su Cristiano Ronaldo questo è interessante perché pochissime movioli l'hanno fatto vedere molti non l'hanno fatto vedere il frame non è preciso ma trovate su Twitter se andate su Twitter trovate una risposta che ho dato su questo video dove si vede questa cosa clamoroso che non ci siano state immagini più chiare quindi anche qua francamente la trovo pessima questa gestione delle immagini ma qua come possiamo vedere Ronaldo sta calciando arriva baccaiocco da dietro e come un treno lo tocca Ronaldo non riesce a calciare perché vi va su tutte e due le gambe e cade a terra questo è assolutamente il calcio di rigore e secondo me questo è il rigore più netto di quelli di ieri sera questo era proprio il rigore principe della serata ah scusate andiamo avanti perché Gattuso protestato perché nel primo tempo c'era questo episodio qua che potete vedere sotto sempre voi il fuorigioco di Patrick Cutrone dicendo ma perché la Juve li faceva tirare o no allora intanto non ho una linea precisa potete vedere non c'è la tridimensionalità quindi in questa foto qua ma l'impressione che ho io è che siamo lì lì cioè non riesco ad avere un'impressione decisa sarei indeciso ecco non se voi faceva bene a far continuare sì però l'unica cosa che volevo farvi notare che secondo me questo è un fuorigioco al limite quindi potrebbe essere fuorigioco come potrebbe non essere bisognerebbe vedere la tecnologia 3D del VAR quindi non lo so la cosa che posso dire è che quando sento dire che l'episodio è arrivava davanti al portiere Cutrone mi viene da sorridere perché Cutrone stava andando dove c'era la rimessa laterale ecco allora se mi dite doveva far continuare l'azione ok dire era da solo davanti al portiere no perché francamente credo che il portiere non stia sulla bandierina dell'angolo però comunque sicuramente poteva lasciar continuare questo lo dico anche se non mi sembra un errore così clamoroso certo sicuramente l'arbitro non ha seguito il guardaline l'arbitro non ha seguito bene il protocollo qua però se devo dare l'idea l'idea che forse di poco ma ci sia il fuorigioco poi non avrò la certezza non ci sarà la certezza mai finché non c'è il la metrica in 3D che risolva questo dilemma ah per scrupolo ho messo il gol di Ronaldo ma io credo che in pochi potrebbero possano dire che questo gol qua sia in fuorigioco perché Ronaldo è assolutamente in posizione regolare più che altro è fesso Rodriguez che sta un metro e mezzo dietro la linea dei giocatori è un errore abbastanza evidente e grave di Rodriguez arriviamo invece ai due falli che molti hanno equiparato ma che in realtà sono completamente diversi Matuidi che si prima Matuidi che adesso vi faccio vedere allora guardate Matuidi com'è e guardate dove sta guardando Matuidi Matuidi guarda Calabria e fa un fallo sicuramente brutto è sicuramente passibile da cartellino giallo però non si può dire che voleva far male è un pestone completamente casuale in quanto lui non guarda assolutamente la caviglia o il giocatore anzi cerca di fermarlo ma assolutamente da giallo l'errore dell'arbitro sicuramente è stato quello di non ammonire Blaze Matuidi oggettivamente però non è un intervento cattivo è un intervento palesemente casuale mentre se andiamo a vedere su che si che si va a guardare lo stingo del giocatore e va piede a martello guardate anche le ginocchia le ginocchia andatemi due frame indietro dove c'è l'intervento di Matuidi e guardatevi il ginocchio di Matuidi e di che si la differenza delle ginocchia è evidente e si vede chiaramente che che si ha il piede completamente tesa la gamba tesa per far male e Matuidi invece ha la gamba che sicuramente fa fallo da giallo ma è casuale una cosa che volevo segnalarvi è che provate a vedere ancora la partita chi ha la possibilità di vederla al momento dell'estrazione del cartellino rosso che si esce mesto mesto dal campo senza dire parola quindi assolutamente credo che anche lui sapesse di aver fatto una boiata e vediamo dunque invece ormai a questo punto qua sull'ultimo episodio il calcio di rigore richiesto dal Milan su questo fallo qua di Emre Can su Conti io più lo vedo più sono convinto che il rigore non ci fosse devo essere sincero sicuramente c'è un errore di Banti che non va a vedere il VAR ma non è andato a vedere neanche negli altri due episodi che secondo me erano passibili cioè i due rigori non dati alla Juve credo che qua io il rigore non l'avrei fischiato perché comunque poi vedo anche lo strattonamento di conti a Emre Can e oggettivamente mi sembra un contatto casuale però se mi dite dove andarlo a vedere dico sì è vero dove andarlo a vedere e comunque ho sbagliato perché comunque io per scrupolo sarei andato a vederlo ma è il protocollo che è da cambiare lo diciamo da inizio anno e mi auguro che sia la volta buona e niente ragazzi allora queste sono questa è la Moviola della partita di ieri la cosa che volevo dire semplicemente che possiamo dire che alla Juve manca un cartellino quello di Matuidi per la gestione dei cartellini la Juve manca un cartellino di Matuidi però possiamo anche dire che Milano è nato mica da ridere quindi cioè Romagnoli ha protestato tutta la partita quindi quando sento dire da Romagnoli che ogni volta che parlava veniva munito è una falsità enorme io non lo so giudicate voi questi episodi io francamente credo che i due rigori per la Juve ci fossero soprattutto secondo quello su Ronaldo credo che sia pazzesco e quello del Milan si poteva anche dare però cioè non mi sembra credo che un arbitro che volesse fare qualcosa in malafede avrebbe fischiato tutto a favore della Juve invece non è stato proprio così anzi anzi oggettivamente credo che la Juve Juve-Milan non sia stata arbitrata così bene da Banti anzi direi che è stata arbitrata abbastanza male però non ha senso unico da entrambi i lati francamente sentire gridare dallo scandalo allo scandalo dal Milan mi sembra quanto meno una caduta di stile da una squadra che queste cose di solito non le ha mai fatte e quindi sicuramente ma li capisco perché il momento del Milan è difficile quindi caschi anche in queste cose purtroppo sciocche e ridicole ecco detto questo ragazzi chiudo col video a me non resta che darvi appuntamento con i prossimi video ciao a tutti e buona giornata grazie a tutti